Musica Un caloroso benvenuto a tutti quanti voi Io sono sempre Leguasta90 E benvenuti quest'oggi a questo video di League of Legends Ok, quando parlo di League of Legends Inizio sempre dicendo Ragazzi non abbiate pregiudizi nel confronto di questo videogioco E quindi anche quest'oggi vi invito a Non disprezzare questo video Solamente perché ci League of Legends Anzi vi invito piuttosto a fare questo sforzo A mostrare tutta la vostra tenacia Cercando di seguirlo magari fino alla fine Ma tolto questo ragazzi Siamo qui per parlare di qualcosa Di che cosa? Del fatto che League of Legends è stato tradotto in italiano League of Legends è un videogioco che Sta spopolando E man mano sta prendendo sempre più piede Nell'ambito videoludico Sempre più giocatori Si approcciano a questo videogioco Io ne sono contento perché io sono uno di questi Che si rende conto di essere Che League of Legends è Un titolo bello Insomma per i gusti che io ho E come molte altre persone Comunque viene apprezzato E sicuramente le persone che si approcciavano E si avvicinavano a League of Legends Notavano come questo videogioco Fosse diciamo solamente in inglese O c'era anche la possibilità Di giocarlo in tedesco Penso nessuno ci giocasse in tedesco Perché penso che Non voglio neanche saperlo come fosse Piuttosto che francese o spagnolo Ma finalmente da poco Hanno anche inserito la lingua italiana Ecco Beh diciamo che Può essere raccolta bene Come cosa? Come può essere raccolta male Nel senso che Può essere raccolta male Se il doppiaggio O comunque questa traduzione Fa storcere un po' il naso Perché chiunque abbia Iniziato a giocare A League of Legends In inglese Vederlo in italiano Insomma alcune voci Alcune caratteristiche Vengono un po' Mutate rispetto a quelle originali Quindi questo può essere Un motivo di discordia Nel momento in cui Un gioco viene tradotto Ma questo lo affronteremo dopo Parliamo soprattutto Innanzitutto Prima di tutto Innanzitutto Bella espressione Ho detto tutto almeno 4 volte Nel giro di 3 secondi Incredibile Record mondiale Di ripetizione In un video Solamente su Il canale di Le Corse 90 No comunque Parliamo appunto di questo D'argomento Appunto League of Legends Sende stato tradotto Io sono contento di questo Perché appunto mostra Come anche in Italia Questo videogioco Stia prendendo sempre più piede E appunto la Riot Ha investito In quello che è Una traduzione Perché la traduzione Che è stata fatta Dalla Riot Non è Nel momento in cui Mi hanno detto Lego l'hanno tradotto Io Eeeh bello Io pensavo Ingenuamente Che avessero tradotto Solamente magari Quello che era Le descrizioni Dei personaggi Le abilità Il negozio Con le descrizioni Di cosa facessero Cosa facevano gli oggetti Eccetera eccetera Io pensavo Una semplice traduzione letterale Invece quando ho Aperto il gioco Mi sono trovato Un po' spesato Perché ho sentito Voci diverse Che poi qui vi farò sentire Dopo qualche esempio Dei personaggi Quindi Tutti i personaggi Sono stati doppiati Anche la voce Del Summoner Rift No in realtà Anche la voce Diciamo Che fa La cronaca Della partita Quella che indica Quando ci sono state Le uccisioni La distruzione Di una torre Eccetera eccetera E' stata anche quella Doppiata Insomma una Traduzione completa Ecco E sicuramente questo Possiamo vederlo sicuramente Come un pregio Perché obiettivamente Un lavoro come questo Un lavoro fatto benissimo Perché se io guardo E ascolto Più che guardo Le voce dei champion A me piacciono E proprio adesso Vi faccio Questa partita Lo giocate con Miss Fortune Vi faccio sentire Un Qualche battuta Appunto di questo champion Di Miss Fortune Sentite voi E valutate Inizia il divertimento Non sono altro che mozzi Sparo sempre per prima Niente bottino Niente paga Fuoco a volontà Bang Che stai guardando un porno figliolo? Ah Un video di Lego Sarebbe stato meglio un porno Decisamente meglio un porno Un video di Lego Un video di Lego Che cazzo è Un video di Lego E adesso che sicuramente Molti dei genitori Avranno sfondato La porta di camera vostra Preoccupati dai versi Provenire da questa Passiamo a un'altra voce Altramente preoccupante Ossia quella di Alistar Difatti Adesso vi farò sentire Qualche secondi anche Di questa voce E ho il dubbio Che questo O stia avendo un coito Oppure una cagata pazzesca Beh lascio a voi la decisione Va a mungere i tori Ecco insomma Adesso vi ho fatto sentire Giusto due voci Ecco Diciamo che Il lavoro che è stato fatto Secondo me è ottimo Per il 90% dei champion Soprattutto sai Sapete bene Come quando Voi associate a una persona Una certa voce A un champion In un videogioco Quella voce Vi rimane stampata E quindi Quando ne sentite un'altra A prescindere Magari Storcete un po' il naso No? Come quando in un film Il doppiatore Di quell'attore È Caio E nel film dopo Viene stravolto Viene messo un altro E voi dite No aspetta Chi è che sta parlando Non è lui E c'è sempre questo Questo piccolo problema Ecco quando si cambia Il doppiaggio Ma qui Su League of Legends Per quanto riguarda i champion Eccetera Mi è piaciuto Mi piace parecchio Diciamo che L'unico Grandissimo E schifosissimo Difetto di questa traduzione È la voce Del narratore Quella che dice Uccisione confermata No no Non dice uccisione confermata Ma ci manca poco Oppure La torre è stata distrutta Trenta secondi Allo spawn dei minion Ma soprattutto La cosa più ridicola Sapete cos'è Poker di uccisione Uccisione tripla Doppia uccisione Non c'è enfasi Manca la enfasi È stato completamente Storpiato In questo gioco Quando si fanno ad esempio Una Un'uccisione tripla Senti Triple kill E ti gasa Questa senti invece Hai fatto un'uccisione tripla No forse dice Tris di uccisioni Minga Mi viene più da spararmi nei coglioni Che esaltarmi per aver fatto una tripla E vi assicuro Non fate mai Quattro uccisioni di fila Una persona Si dovrebbe gasare No questa dice Poker di uccisioni Poker di uccisioni Ma che Cacchio di traduzione è Questa Ecco In tutto il doppiaggio Secondo me l'unico vero e proprio difetto È il fatto che Abbiano appunto Storpiato Quello che secondo me Non doveva essere tradotto Ad esempio Double kill Triple kill Penta kill Ace Queste erano le informazioni Che non dovevano essere tradotte Come in molti casi Per quanto esista Una traduzione Di una parola in italiano Questa non va tradotta Proprio perché va A rovinare Quella che è il significato Più per il fatto Che abbia Possiamo così dire Un sonno cacofonico In italiano Un sonno di merda In poche parole Ma anche perché Questa è l'abitudine Di un giocatore Che Dopo un anno di distanza Si sente un po' Stravolgere il gioco E quindi io spero Difatti stanno raccogliendo I feedback La Riot Che successivamente Venga Modificata Questa voce Piuttosto Andando appunto A ricalcare A riprendere Quella che era La vera traduzione La traduzione Originale Insomma Double kill Penta kill Queste cose L'unico difetto Che posso attribuire A questa traduzione Anche altro difetto Di quelle cose Che non vanno tradotte Per esempio La parola skin La parola skin Nel gioco Va a indicare Gli aspetti Vedete Miss Fort In questo caso Una skin Da mafiosa Con i due pistoloni Una donna che tiene in mano Due pistoloni Potrei farci un film Ma non potreste vederlo Probabilmente perché Mi non rendi No vabbè Volevo dire appunto Skin Skin è l'aspetto Che viene tradotto Appunto aspetto Ma secondo me Lasciare skin Poteva andare bene Ci sono cose Che andrebbero rifinite In questa traduzione Che secondo me Sono andare a delineare Quali sono quelle parole Che non sarebbero E che non avrebbero dovuto Ricevere una traduzione Ecco Secondo me è questo Però Tutto sommato Sono contento di questa traduzione E soprattutto ragazzi Vi avverto che Vi consiglio di utilizzare La traduzione italiana Per il prossimo periodo Perché Come scritto nella loro pagina Per tutti coloro Per i giocatori italiani Verrà garantita una skin Adesso Io Alcuni mi hanno detto Eh la skin di Tristana La skin di Tristana È già gratuita Vi ricordo che Mettendo un like Alla loro pagina Facebook E iscrivendovi al canale Twitter Potete ricevere Le skin E Relativamente anche il champion Di Tristana e Alistar Quindi Io spero che non sia di Tristana Questa skin Spero che sia una skin Un po' originale Piuttosto so Preferisco un Trandol pizzaiolo Cioè qualcosa del genere No Odio questi stereotipi Però comunque Voglio qualcosa Voglio un qualcosa di originale Magari anche unico Che nessun altro potrà avere al mondo Solo noi italiani Non sarebbe figo Beh aspettiamo Perché c'è scritto prossimamente Quindi non sappiamo ancora Cosa ci ritroveremo Detto questo ragazzi Io sono sempre Legolas 90 Vi ringrazio per la vostra attenzione Che mi avete prestato Nel corso di questo video E vi invito a farmi Sapere le vostre impressioni Su quella che è stata Questa traduzione Di questo videogioco E magari se non l'aveste ancora provato Qui sotto c'è un link Per poter accedere A iscrivervi E poterci giocare Un refera Vi ho già spiegato cos'è Ci tengo sempre a dirlo Perché so che Vi fa sempre piacere Che comunque venga detto Sempre tutto Una certa trasparenza Anche da parte mia E penso che sia gradita Quindi fatemi sapere Qua sotto nei commenti Tutte le vostre impressioni Su League of Legends In italiano Provate questo gioco Se non l'aveste ancora provato Perché se no libero La bestia Che c'è in me La bestia terribile No vabbè Detto questo ragazzi Io vi ringrazio E ad un prossimo video Ma perché no Non l'ho ancora detto Lasciate anche un mi piace E invece no ragazzi Sono ancora qui Il video non finisce qua Oh no Lego ti prego Basta liberci Da questo supplizio No ancora Qualche secondo Devo dirvi Giusto una cosa Molto veloce Per chiunque Stesse visualizzando Questo video Il giorno della pubblicazione Ossia venerdì Primo marzo Allora Domani Sabato 2 marzo Io sarò Dalle ore 11 Fino alle ore 17 Presso il centro commerciale Vulcano Dentro il punto vendita Ironics Ecco Per che cosa Perché c'è una tappa For fun Dell'evento Play Now By Telecom d'Italia Quindi Vi ricordo Io sarò lì Vi ho già invitati In un video precedente Con tutte le istruzioni Del caso A essere presenti Ve lo volevo ricordare Perché insomma Domani io sarò lì Per chiunque Se lo fosse dimenticato Ma come farselo dimenticare Nessuno potrebbe Dimenticarsi una cosa del genere Per invitarvi ad esserci Ecco mi farebbe piacere Trovare Beccarvi qualcuno di voi Beh quindi Questo è tutto Volevo fare questo giusto Veloce Pro memoria Questa veloce memo Per tutti voi E niente Ci sentiamo ai prossimi video E magari Spero soprattutto Domani Ciao a tutti ragazzi